Buongiorno a tutti ragazzi da Yeoio allora oggi voglio fare un discorsetto e partiamo dalla parola ti amo di bene ok, il ti amo di bene viene da dopo dieci anni viene dall'amore profondo che proviamo io e la mia compagna l'uno per l'altro perché? perché tutti e due allora io dovete sapere che comunque sia nella vita ho avuto molte delusioni molte delusioni ma come tutti quanti io non è che sono uno che piagna poi alla fine uno che si rimbocca le maniche e ricomincia da capo sono uno che comunque sia ha preso botte da un sacco di donne ha preso botte da donne che sono donne che mi devono proteggere sono quelle che le donne che mi devono proteggere più nella vita sono quelle che mi hanno fatto più male ma questo non ce ne frega un cazzo perché lascia il tempo che trova tanto comunque sia c'è nella vita chi è cattivo, chi non è cattivo chi è meno cattivo e comunque sia avevo perso le speranze nell'avere una compagna vicino a me fatalità dopo poi vi spiego il perché di questo video fatalità dopo che mi sono separato per vari motivi varie colpe che sono da tutte e due le parti perché ragazzi quando uno si separa i matrimoni finiscono perché la colpa è di tutte e due non è di una persona sola perché io sento sempre no perché è quella così perché è quello colà tanta la colpa sta sempre in mezzo quindi è inutile che uno cerca scuse bisogna essere un po' più realisti e un po' più concrete poi magari uno è giovane è in esperienza si vuole ancora divertire e un sacco dei cassi vari vabbè fatalità mi separo avevo deciso proprio di non voler più donne vicino a me perché lungi da me guarda ho preso certe botte di come sono rotto proprio i coglioni e invece fatalità dieci anni fa ho incontrato sta ragazza che si chiama Carola che tuttora stiamo insieme sono passati felicissimi dieci anni tra alti e bassi ma problemi non alti e bassi tra me e lei alti e bassi nella vita problemi cose varie dove lei c'è sempre stata e purtroppo adesso non vive con me fissa vita natural durante perché comunque sia c'ha una casa di proprietà torvaglianica dove c'è il papà è vicino lì al lavoro quindi deve comunque sia fare avanti indietro da spola a spoletta tra quelle e le altre è una ragazza veramente che io la volevo ringraziare ecco perché il video volevo ringraziarla veramente ma a parte dell'amore della vicinanza che c'ha con tutti quanti che dà del rispetto della fiducia che riporre sempre negli altri e dello starci cioè lei c'è Carola è una che c'è e ho voluto far sto video perché comunque sia youtube è un social mondiale dove tutti quanti possono vedere sentire queste cose ma prettamente io lo uso a parte per divertimento come social per condividere insomma stronzate mi piace comunque sia usarlo come documento nel senso io documento la mia vita che rimarrà spero anche dopo la mia morte rimarrà anche 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 questo video rimarrà fisso finché uno chiuderà il canale spero che non lo chiuda mai nessuno su youtube dove dove chi la compagna i miei figli dove chi mi ha voluto bene dove ancora c'è chi ci sarà dopo di me o chi ci sarà anche dopo di me quindi figli di figli eredi e cazzi vari potrà andare a vedere chi era lo sì o il nonno o il cugino o il fratello o aioio e pepericino e quindi questo video nasce del fatto del perché dopo tanti anni che è una frase ricorrente che usa moglie lei perché la parola ti amo ha un peso un peso molto importante perché l'amore va dimostrato e lei me l'ha dimostrato in 30 miliardi e mezzo di occasioni e si è avviati al punto di non dirci neanche in più ti amo ti amo di bene è la parola cioè perché perché il bene secondo me e lei dal nostro punto di vista è quello che poi rimane a vita perché l'amore l'amore quello passionale quello che c'è all'inizio quello mamma mia che farei quello là c'è quello ci sarà sempre però poi rimane rimane il bene rimane la vicinanza lo starci rimane la famiglia rimane il calore familiare rimane tutto e il bene secondo noi è quella la cosa più importante che tiene legata le persone perché perché abbiamo sempre detto è facile ditte te amo te voglio bene quando se sta bene prova un po' a dimmelo e dimostrarmelo quando stavo male che stavo proprio così beh rega lei l'ha fatto lo fa l'ha fatto e non lo fa solo con me lo fa anche col padre con la madre con gli amici lei è una propria in agio e l'ho sceso in terra quindi questo invito come lo fa io per ringraziarla veramente di cuore e per esserci sempre stata so come ringraziate veramente grazie veramente di cuore tanto 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 da ioio un bacione te voglio bene e spero altri 200 anni insieme a te tutta la vita ricordate una cosa amore mio tu sei l'unica persona nella vita per la quale io darei la mia vita non ce ne stanno altre un bacione da ioio ho Grazie.